Da questo lunedì 16 maggio non è più obbligatorio indossare le mascherine a bordo dei mezzi pubblici in Francia. Così la Direzione Generale per la Salute Francese ha posto fine ad una delle ultime grandi misure di contenimento del virus, ancora in vigore nei luoghi pubblici. Dal 14 marzo infatti non era più obbligatorio indossare le mascherine al chiuso e i mezzi pubblici rimanevano l'unica eccezione. Rimane tuttavia fondamentale porre attenzione alle norme applicate a bordo di treni, aerei e bus che percorrono tratte da e verso l'Italia.